E' Cersuta di Maratea la seconda spiaggia più amata dagli italiani, questo l'esito del concorso di lega ambiente La più bella sei tu, il contest lanciato sul web per eleggere il lido più bello dell'estate 2015. Prima classificata è la spiaggia di Buemarino San Vitolo Capo in provincia di Trapani, terza tra le 13 spiagge del cuore scelte dal popolo del web Baia dell'Orte a Otranto. Maratea dunque che si conferma sempre di più la perla del Tirreno con questo riconoscimento che va all'incantevole spiaggia del Nastro, la prima che si incontra lungo i 30 km della suggestiva costa potentina di Maratea dove la peculiarità del paesaggio è data da rocce a picco sul mare, crotte e piccole callette selvagge. Sentiamo come ha commentato la notizia il sindaco di Maratea Domenico Cipolla. Questa notizia di oggi per noi è un vanto essere arrivati secondi in questa classifica di lega ambiente in un ventaglio di spiagge, immaginiamo l'Italia quanto è lunga e quante spiagge ci sono, classificarsi secondi certamente è un orgoglio, un orgoglio per Maratea, un orgoglio per la Basilicata, per un sud che si rilancia, che ricresce perché le prime sei classificate sono tutte spiagge del Meridione, c'è la Sardegna, c'è la Sicilia e c'è Maratea. Tra le altre spiagge in concorso vanno ricordate l'amatissima Sardegna con la spiaggia di Calaluna, la spiaggia di Punta a Derci a Basto, la spiaggia Campana del Buon Dormire a Palinuro e la spiaggia di Caia di Luna a Ponza. Il concorso La più bella sei tu dunque è un segno che gli italiani hanno voglia di far conoscere i loro luoghi preferiti e del cuore. La cerimonia di premiazione delle tre spiagge vincitrici si terrà a ripescia nel corso della ventisettesima edizione di Festa Ambiente, in programma dal 7 al 16 agosto 2015 e sarà l'occasione per dimostrare che è possibile difendere i nostri delicati ecosistemi costieri celebrandone l'integrità e la bellezza. Grazie a tutti! Grazie a tutti!